Ciao a tutti, in questo video vediamo le coppie di segni zodiacali che prima o poi devono stare insieme. Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, quali sono queste coppie che prima o poi devono stare assieme? Allora, sono la rete e la bilancia. La rete e la bilancia, l'incontro tra questi due segni provoca sicuramente delle scintille, prova sicuramente delle emozioni molto forti perché l'energia della rete unendosi alla grazia e all'armonia della bilancia dà comunque un'unione molto stabile. Fanno una coppia positiva che può andare avanti e diciamo può avere dei problemi solo se la rete non accetta le regole di vita della bilancia che sono regole basate sull'estetica, basate sull'essere belli, sull'apparire. Poi troviamo il torre e lo scorpione. Il torre è molto tenero, stabile, lo scorpione è molto passionale. Insieme danno vita ad una coppia positiva, una coppia che brucia dall'ardore della passione. E ovviamente il carattere estremamente forte di entrambi può generare degli scontri, soprattutto quando l'instabilità e l'emotività dello scorpione si va a scontrare contro la stabilità del torre. Poi troviamo i gemelli e il sagittario, che hanno un'attrazione fisica ma soprattutto un'attrazione mentale, una connessione decisamente molto forte. I problemi sorgono quando il sagittario non accetta, diciamo, un po' l'altalenanza dei gemelli, il fatto che i gemelli passano da uno stato emotivo all'altro. Poi abbiamo, diciamo, altri due segni che sono il cancro e il capricorno, il cancro molto sensibile, il capricorno dominante, è un segno che messi assieme vanno bene, funzionano molto bene. Il capricorno dovrebbe soltanto cercare di diventare meno gelido, diciamo così, e diventare un po' più romantico per assecondare un po' l'esigenza del cancro. Poi troviamo il leone e l'acquario, il potere del leone si unisce allo spirito libero dell'acquario, che è attratto dal fascino del leone, però, diciamo, spesso si hanno degli scontri quando l'acquario impone delle regole sociali che il leone ha poca voglia di rispettare fondamentalmente. E poi troviamo il Vergine e i Pesci. Il Vergine e i Pesci è un altro segno che funziona molto bene, una coppia esplosiva, che ha tutti i presupposti per vivere una bellissima storia d'amore, a patto che la Vergine si sforzi di essere un po' meno perfezionista, soprattutto di pretendere la perfezione da parte del partner. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!